Che cos'è la poesia? Un'accensione, un'illuminazione, un dono speciale, una visione? La poesia è soprattutto una pratica. La poesia si fa. E come si fa la poesia? Scrivendone e leggendone molta. La poesia si fa e la poesia fa qualcosa, fa accadere qualcosa a livello interiore, esteriore, di risonanza. Nel nostro percorso scriveremo e leggeremo poesia e soprattutto metteremo alla prova una indicazione che ci viene dal poeta Milo De Angelis. Per cambiare la vita di chi lo legge, un libro di poesia deve aver sconvolto la vita di chi lo ha scritto. Noi non abbiamo l'ambizione di lavorare sulla vita, ci proveremo almeno con la scrittura. Io sono Gilda Policastro e questo è il nuovo corso online della scuola Holden, Facciamo Poesia.